Teo De Luigi, un evento come quello di oggi diventerà parte di un documentario sulla barbaria del nazifascismo? Questa non si può dire oggi, certo che è stato veramente commovente a questo momento e credo che Finale abbia bisogno di queste occasioni perché rinforzare la memoria significa vivere meglio per il futuro secondo me e questa cosa i finalesi, i quattro finalesi deportati meritavano questo ricordo e io credo che non sia neppure superficiale dire che chi verrà finale non verrà solo per il mare, per la spiaggia, per il suo abito curioso, ma verrà d'ora in poi forse qualcuno, anche uno solo, per le pietre d'incianto, per rivedere perché finale si deve in qualche modo, si deve capire che si può perdere anche una fabbrica perché la piaggia verrà demolita, ma non si può perdere la memoria e questo è importante, grazie